Ciao ragazzi, siamo tornati e sono molto contenta di essere tornata per parlarvi di un nuovo progetto webinar per voi, ma anche webinar e podcast per tutti i miei amici che sono curiosi del mio mondo. Benvenuti al mio primo podcast, un podcast di Yes I Can. Yes I Can, sì tutto è possibile e anche questo fatto di tante persone che diventano purtroppo il nemico di loro stessi, parla tanto di mostri, chi sono questi mostri? Questi mostri sono persone che, persone, eventi e altro che dici che tu non sei abbastanza, che tu non sei abbastanza all'altezza, perché sei donna, sei uomo, sei giovane, sei vecchio, sei in menopausa, non sei ancora trentenne, potrei andare avanti perché noi siamo circondati da persone che vogliono dirci perché non possiamo fare qualcosa. E questo include anche noi stessi e se noi riusciamo a calcolare o guardare o tracciare il nostro mondo interno, il nostro mondo interiore, magari possiamo cominciare anche a curare il modo che approcciamo la vita e curare questo modo di stare meglio con noi stessi. Questi slide provengono da un vecchio webinar, però i concetti che voglio affrontare sono tutto qua, subconcio, come interagisce con il nostro mondo interiore e ottimamente io sto sentendo tantissime persone che parlano del sindrome dell'impostore, che cos'è? È la paura di farti vincere. Tante persone che lavorano, 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 lavorano per avere una sorta di riconoscimento dai quei mostri, no? Se io solo scrivesse un libro sarei accettabile, se io solo raggiungesse questo meta sarò accettabile. Vedo le persone che provano a laurearsi per i genitori o magari perdere peso per un amoroso o per essere amato, però la verità è che tu devi entrare in un posto dove tu stai bene con te perché sai che stai facendo il tuo massimo. Quando tu assegni un valore dell'intento del tuo cuore perché tu dici ho dato il massimo, ho provato e ho provato tutto quello che è possibile nel mio percorso per raggiungere questa fine, non posso più biasimarmi di non aver raggiunto. Ma se io lo faccio per un'altra persona, io mi sentirò sempre un impostore perché io penso sempre che tutto quello che faccio, se non io assegno un riconoscimento al mio valore, non avrò l'autostima, non avrò l'autostima tale di permettermi di rilassare su quello che ho raggiunto. Io sono arrivata a questo momento della mia vita, 55 anni e ho scritto e pubblicato otto libri. Avrò girato più di 30 DVD, delle quali hanno venduto più di 500.000 coppie. Avrò venduto, occhio croce, sto andando occhio croce, nella mia carriera 100 milioni di euro, tra tutte le aziende dove ho lavorato, 100 milioni di euro avrò venduto, 100 milioni di euro, il mio lavoro ha provocato un fatturato di più di 100 milioni. Che cosa mi serve per finalmente affermarmi e dire, Gil, porca paletta, sei all'altezza. Allora mi devo fermare io e assegnare un valore del fatto che io sono un professionista, che conosco il mio lavoro, che sto bene nelle mie pelle, che non ho bisogno di andare a guardare nei social o nelle persone un'approvazione per rendermi conto che non sono un impostore. Io sono 100% me stessa, 100% non professionista, 100% amabile, 100% accettabile in questo corpo, 55 anni, anche in menopausa. Non c'è una data di scadenza della tua autostima, non c'è una data di scadenza come essere umano. In ogni fase della nostra vita, noi, essendo noi stessi e arrivando ogni giorno di dare 100% a noi stessi, non siamo impostori, siamo protagonisti della nostra capacità, qualsiasi capacità, sia chi cucina, chi pulisce, chi comunica, chi alena, chi è un medico, chi pulisce benissimo, chi è un insegnante di bambini, chi riesce ad essere un psicologo, chi riesce a guidare in un taxi alle 4 di mattina, tutto serve. E se non penso che noi dobbiamo smettere di permettere i mostri di farci sentire impostori nella nostra stessa vita, perché sono convinta che tu sei tu, perché tu devi essere tu. Tu sei tu, perché c'è una missione su questa vita. Io parlo tanto di missioni. Io dico sempre, se tu riesci a trovare il motivo per il quale stai su questo pianeta, troverai la tua missione. Dopo che tu hai trovato la tua missione, che molto probabilmente è legata alle tue doni, capacità, meraviglie, perché le sono meraviglie, tu, quelle meraviglie, una volta che le hai capito, uno le devi un po' acudire, ripulire, se vogliamo levigare, far diventare brillanti, e poi le devi riregalarli al mondo. Non puoi sentirti un impostore nella tua stessa vita se tu stai facendo quello che sei stato nato per fare. E se tu non hai ancora trovato la tua missione e stai cercando l'autostima, l'autoconclamazione, l'autoprovazione, ti senti ogni tanto di essere una fantasma nella tua stessa vita, svegliti e ascolta questo webinar, perché questo podcast webinar, chiamalo come vuoi, è dedicato a schiacciare i mostri e accendere il tuo potenziale. Perché i mostri non sono nient'altro che il male che vuole schiacciare il tuo potenziale. E il mostro più grosso, spesso e volentieri, scusate, e quel critico interiore, scusate che c'è il fluffo sui capelli, mi fa mi... Correggio i capelli così continuiamo a parlare. I mostri dentro di noi possono essere ovviamente il diavoletto, critico interiore, quella voce. Se tu ti silenzia abbastanza, io ti chiedo chi sei. Tu potresti cominciare a dire, mi dici il tuo nome, mi dice, io sono, in questo caso sono Jill Cooper, ma la verità è che noi dobbiamo ascoltare più di questo. Io non sono Jill Cooper, Jill Cooper è un nome. Che cos'è Jill Cooper? Jill Cooper è un insegnante, motivatrice, scrittrice, produttore, imprenditrice, moglie, madre. E di nuovo sono tanti e tanti ruoli. Ma chi è Jill Cooper? Jill Cooper è di più. Emozioni, fantasie, sogni, energia, movimento. E c'è quella l'anima. Poi c'è un'altra voce dentro di te, che è quel famoso critico. Se tu ascolti, quel critico è ossessivo, incessante, dalla mattina alla sera, che dice, ma chi pensi di essere? Ma perché la fanno? Ma ti sei visto? Ma che sei matto? Quindi ti potrebbe fare male? Quello ti potrebbe tradire? Quello ti potrebbe... Cioè, è quel freno, ma se facci caso, è quasi esterno di te. Anche se è interno di te, è esterno di te. Ma sei veramente quella voce? O quella voce è qualcosa, quel mostro interno che ti dice, non vivere affatto, così non ti fai male. Ma non vivere affatto che cosa? Che vuoi dire non vivere affatto? Io voglio vivere come, e voglio vivere ogni giorno come se fosse mio ultimo, perché io voglio veramente affrontare questi mostri e non avere paura di guardarti dentro. Io lavoro come motivatore e come anche consulente, insomma, life coach con tante persone, e quasi tutti hanno paura di guardarsi dentro, perché dentro io devo riaffrontare quello che mi ha fatto male. E sono i mostri. I mostri a volte vengono come ricordi del passato, che mi fanno ricordare quanto mi hanno fatto male, e fin qua ci siamo. Oggi però voglio parlare un po' più del tuo mondo, tuo interiore. Cioè quanto mi sono fatta male, quante cattive scelte ho fatto, quanti sbagli ho fatto, avrei dovuto e non ho fatto, non avrei dovuto e l'ho fatto. E io sono vergognata di quello che ho fatto nel passato. E fino a un certo punto, sana vergogna, te lo appoggio. Va benissimo ad avere sana vergogna, una sana vergogna. Quello che voglio, perché ci evita di replicare quel stesso sbaglio. Se io stavo facendo qualcosa sbagliato nel mio passato, e lo corrego, e vado avanti per il resto della mia vita, e c'ho persone che provano a rinfacciarmi il mio passato, ma non lo faccio più, guardo quelle persone e dico, caro mostro, caro critico, caro pazzo, sai che ti dico? Non sono più quella persona. Posso chiedere scusa, e posso provare di non replicare quello sbaglio, ma più di questo non posso fare. Se non ti piace, mi dispiace, ciccia, perché mi amo, mi accetto, non sono un impostore nella mia vita, io sono 100% Jill Cooper. Ogni tanto anch'io c'ho i miei mostri, ogni tanto io devo affrontare questi mostri, ma mi sono reso conto che la felicità non sta ne a scrivere libri e pubblicare libri, e la felicità non sta ne a fare milioni di euro fattorato, e la felicità non sta ne a produrre lavoro, anche se, guarda, vada bene, non ho detto che non piaccia il mio lavoro. Spesso e volentieri le gente si soffermano di quello che dice Jill, ah Jill ha detto che la felicità non sta ne a scrivere un libro, non scrive un libro. No, non ho detto di non, l'intento del cuore che conta qua, se l'intento del cuore non scrivere un libro è, vuoi scrivere un libro? Benvenga, scriviti un libro, ok? Tanto lavoro, molto soddisfacente, anche quando pubblica un libro, avere quel libro in mano, è soddisfazione, mille. Ma se scrivo il libro, perché penso che scrivendo il libro sarò accettato da XXY un'altra persona fuori di me, l'intento del cuore è sbagliato, e lo sto facendo per il motivo sbagliato. Anche l'amore può essere fatto con l'intento sbagliato. Se io amo un'altra persona, perché quello è l'unico modo perché posso sentire in contatto con me stessa è sbagliato. Se amo un'altra persona perché condividere la vita con quella persona è bello, poi quella persona si allontana, si torna, si realizza, io sono felice, tifo per quella persona, benvenga. Se amo un'altra persona, dici, oh cielo, non posso vivere senza di te. Se tu mi lasci, io morirò, l'intento del cuore dell'amore è sbagliato, e cominciamo con quei rapporti malsani di possessività, manipolazione, ossessività, che non fa assolutamente bene né a te, 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 questo mondo interno e risettare da adesso. Io adesso voglio cambiare, adesso posso cambiare, perché non posso diventare un'altra persona oggi. Io in questo preciso istante potrei tagliarmi i capelli, tingerli di nero, tatuarmi dappertutto, potrei farlo, giusto? Esserei un altro Gil, un Gil con cui il mondo che mi circondo interagirebbe in modo diverso. Perché adesso mi vedi, lasciamole, Barbie Ginica, Barbie Malibu, ok? Magari poi vedresti Barbie Dark, Barbie Aggressive, Barbie Valentina Crepax, vedresti un'altra persona, vedresti un'altra versione di Gil. Noi siamo, in questo momento, possibilitate di cambiare vita ora, ora, anche perché mia palestra online si chiama Now, ora, in inglese, no ordinary workout, no ordinary woman, no ordinary week, perché dobbiamo rimanere per il resto della vita sottomesso di quello che abbiamo fatto fino a tre minuti fa e accettare che il resto della vita sarà così. Ma che tristezza che mi state dicendo, ragazzi? Cioè, questa guerra all'interno di noi va affrontata a testa alta, va affrontata con tanto coraggio e va affrontata passo per passo, perché dentro di noi quella guerra tra bene e male, ok? tra subconcio e concio, tra voglia e paura è speranza e delusione. Io spero di cambiare ma potrei rimanere deluso, potrei essere lasciato dall'amoroso, potrei riprendere i chili, potrei fallire, potrei non vincere. Però io ti posso garantire che raggiungere una meta, un successo, raggiungere il successo fa più paura di non raggiungerlo, perché quando non raggiungo il successo, posso rimanere vittima, posso rimanere convinto che sono un impostore nella mia vita, posso rimanere del lato negativo e posso garantirti che il lato negativo è assai più prevalente del lato positivo del vostro carattere, perché comunque quel critico, facci caso, se voi guardate i social, ti scrivono in 100 che bello che bravo che carino che cosa cuore cuore quanto stai bene tutto quanto e c'è un commento su 100 ma va ma non niente di che ti concentri su niente di che è 100 contro 1 100 contro 1 cioè il tuo cervello gravita sempre verso il negativo gravita sempre verso l'impossibile gravita sempre verso il cielo che me l'ha fatto fare ok così dentro la guerra interna è se tu cominci a osservare queste voci cominci a riconoscere la guerra all'interno diventa assai più facile di pianificare un modus vivendi e un piano di attacco per affrontare ogni questa voce negativa per esempio speranza verso l'illusione vorrei sperare ma cioè virgola ma consapevolezza verso biasimo ok perché l'ho fatto o caspiterina l'ho fatto non posso perdonarmi non posso perdonarli non posso riparsire guarda il biasimo inconsapevolezza ok perfetto ho sbagliato ciao ho sbagliato succede sono un essere umano si sbaglia da quella consapevolezza di cui ho sbaglio però posso prendere atto chiedere scusa dove è necessario chiedere scusa difendermi dove è necessario difendermi e fare un nuovo piano di attacco smetti di andare a Milano se volete andare a Napoli ragazzi cambiate strada cioè non è detto che quello che stai facendo oggi deve essere quello che fai domani basta pensare che oh io sono fatto così la più grande strombolata che ho mai sentito nella mia vita io sono fatto così perché non è vero non conosco un bambino di sei mesi che si biasima perché ha fatto il popò nel suo pannolino dice la lancia prende cioè tipo gioisce nel suo nel suo essere nel suo essere vivo ok perché non torniamo di tornare cioè lasciamo che tutti i mostri che abbiamo accumulati con anni non so quanti anni hai ma quella cumulo di pressioni familiari societario anche di te stesso anche di amici o di eventi che ti fanno biasimare il tuo modo vivente ciao si consapevole ma senza senza criticare di troppo sano vergogna va bene ossessivo vergogno malsano potere verso impotenza la guerra io ho potere io potrei allenarmi in questo momento ma l'impotenza di salire dal divano l'impotenza di agire l'impotenza di iniziare l'impotenza di continuare l'impotenza di non essere disciplinato ok questo è anche un problema della guerra all'interno giorno sì verso giorno no un giorno sì è il giorno quando sentiamo energici questo è legato più anche per quanto mi riguarda i processi fisiologici buon sonno ti darà un giorno sì idratazione bere tanta acqua ti darà un giorno sì mangiare bene leggero un giorno sì verso un giorno no il giorno no è quando ti senti appesantito hai bevuto male fumato male fuma come sigarette ti senti appesantito questo giorno sì giorno no può essere anche legato al balzo ormonale per le donne o anche una predisposizione pessimistica o ottimistica così in questo vi invito di trattare bene il corpo età ovviamente l'età del guerre dell'interno c'è anche questo fatto di essere in conflitto con il processo di invecchiamento e ci sono momenti durante la nostra vita che può farti fare un'ora di contazione io di solito lo noto a 30 anni 40 anni 50 anni non sono arrivata a 60 ma sicuramente anche a 60 anni farò un'ora di contazione però sono tutti momenti delle nostre vite che vanno osservati e sono momenti che possono creare un guerra all'interno e accendere questa critica interiore che diventa difficile da superare situazioni ci possono dare un guerra all'interno se noi abbiamo un rifiuto lavorativo amorevole relazionale può creare un forte scompenso dentro noi stessi sentiamo indesiderati non sentiamo all'attezza può scatturire o scatenare una guerra all'interno ormoni gli ormoni i balzi ormonali danno tanto problemi sia per la donna in età fertile che dopo la menopausa gli ormoni incidono su anche il benessere psicofisico e può essere a volte un problema la depressione chimica chimica intesa come un balzo ormonale momenti storici una perdita un divorzio un anche postparto possono creare una guerra all'interno di voi ma in parte noi attraiamo attiriamo i nostri mostri la legge dell'attrazione è che attrago ciò che penso di meritare se io sono convinta di non essere all'attezza se sono convinta di essere un postore se ogni volta che una persona mi dà un complimento dice ma no non è così no non è merito mio no non diamoci mai un po' di in inglese si dice kudos kudos brava ce l'hai fatta brava non sei così male brava non dico di essere arrogante però ogni tanto possiamo bloccare queste mostri se riconosciamo un piccolo successo un successo di un piatto ben cucinato un piatto o un rapporto di lavoro ben fatto o un piccolo successo soffermati io vedo tanto con le persone per esempio quando dico come sta andando il tuo percorso ho perso 7 chili ma devo ancora perdere 15 ho perso 15 chili ma devo ancora perdere quelle ultime 5 hai perso 15 chili hai perso 7 chili hai perso 3 chili ma ti puoi fermare e dire guarda quanto strada ho fatto vedi è sempre questa guerra tra mostro interno e mostro esterno cioè interno angelo diavoletto e l'angelo è molto silenzioso diavoletto sta sempre dicendo ma ha visto ma ha visto ma ha visto e dici ping vai via ping io voglio godere questo momento non goderlo mangiando tutto il frigorifero però goderlo mentalmente riconoscendo che effettivamente ho fatto un bel lavoro il mio pensiero ha un peso pensiero e le parole hanno peso io sono fissato con questa cosa come penso e come mi parlo è molto potente su questi mostri è importante che usiamo parole costruttive e non parole e non parole a vamba a volte noi possiamo parlare di ripeto come stai bene sei dimagrita sì ma quello sì ma il mio gluteo non è come volevo la mia pancia è ancora piena di smagliature e questo pensiero ha un peso invece noi dobbiamo sempre tentare tentare non è sempre automatico ma tentare di riformulare il pensiero della parola se io devo dire non mi piace il mio gluteo o perché il mio gluteo è troppo pronunciato potrei dire sai il mio gluteo si comporta come gelo ok che gelo è la prima che ha sdogonato questo lato B super super diciamo super pronunciato e l'ha fatto dal suo biglietto di visita però posso dire che noi possiamo sempre devo ancora perdere peso ok perfetto o sono sull'ottima strada e so esattamente dove devo andare per finire e compiere il successone vedi è vero che devo perdere peso perfetto però ho già perso così io ho già fatto tanto sto continuando arrivo alla meta in velocità sto andando sulla giusta strada cambi proprio il pensiero il modo di parlare con te stesso con quei mostri io accetto l'amore che penso di meritare se i tuoi genitori non sono stati all'altezza se il mondo intorno a te non è stata l'altezza per insegnarti che tu meriti meriti veramente di avere di più della tua vita di più del tuo corpo di più dei tuoi rapporti ahimè dovrai far scendere dal pedestale a tuoi genitori e dovrai cominciare ad amarti a certo punto cioè a certo punto per uscire dal ciclo dei problemi il ciclo dei problemi sono appuntamenti divini io sono convinta di questo io sono credente conosco anche non credenti allora non credenti credono spesso volentieri in energia l'universo chiamalo come ti pare per me non è importante però io credo che i problemi se fai caso si ripetono e continuano perché getti la spugna se tu getti la spugna cioè è una prova che tu non superi e se tu non superi quella prova divina che cosa succede tu hai paura di ripetere lo stesso sbaglio da una certa parte ci credi ma non ci credi che potrai realmente cambiare così ritorniamo su speranza e delusione cioè ci credi ma a metà cioè ti stai già sconfiggendo da solo perché tu dici sarà la volta buona perché hai visto quello che è successo l'ottima volta e mostri che ti dicono mostri dicono ma non uscirai mai da questo problema di alcol di fumo di rapporti mazzani di un lavoro che non ti appaga non ti soddisfa e questo problema ma noi possiamo risettare tutto allora che cos'è il ciclo dei problemi cominciano piccoli e sono sussuri facciamo caso di una persona che deve imparare a nuotare ok ho paura ho paura ho paura e ti dice devi imparare a nuotare ok no 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 non lo faccio non lo faccio non lo faccio quando ritorna cambio 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 le cose perché nuotare non mi funge rapporti malsani ok ti metti con il fidanzato o fidanzata che è ossessiva gelosa ti denigra ti dice no ma ti sei visto non fai nulla di giusto non ti fa sentire amato ti fa sentire sempre sotto l'asticella dell'approvazione e tu sempre stai provando di saltare è altro che impostore stai proprio pregando in ginocchio e stai elomosinando amore non è amore questo questo è un'autostima che va proprio male devi aumentare tua autostima devi lavorare su questo però fai caso che finalmente arrivi al succo lite 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 e lasci questo fidanzato lo chiamiamo pao pao ok lasci pao vabbè ciao pao ti rifidanzi e trovi con mark altri problemi similissimi a pao ok però un po' più amplificati come se dice oh devi affrontare questo problema devi amarti di più devi volerti più bene oh svegliati e questo ciclo dei problemi tu puoi cambiare quanti fidanzati vuoi ma il problema non è il fidanzato il problema è che tu non ti fai accettare un amore che meriti e tu meriti di essere amato sostenuto accompagnato tifato amato non schiacciato non non diriso non scretolato questo è un grosso problema sia per gli uomini che per le donne ma io accetto l'amore che penso di meritare così si io mi amo mi accetto so di non essere impostore ma 100% Gil il minuto che qualcuno attacca quello che so di essere una certezza di chi sono da bene nel male ma chi sono mi difendo e non accetto un amore che è al di sotto di quanto che merito perché il rispetto è il numero uno se non c'è rispetto scappa se c'è possessività insensato scappa sei una persona che sempre non puoi fare nulla di giusto non sei vestito di giusto non c'è il corpo più bello non cucini bene cioè ti sta sempre addosso ragazzi scappate ok perché altrimenti finché tu non non risolvi quel problema quel problema si amplifica come una goccia nel mare e diventerà sempre più gravoso finché forse rischi di trovarti con una violenza fisica dall'altra parte perché è come se l'universo fa eh Jill guarda devi crescere ok oh Jill devi crescere ok Jill momento di crescere oh urlando e la nostra crescita prima o poi diventerà sommetizzata a livello fisico si chiama psicosomma sommetizzo un problema psichico fino a cominciare avere il problema dell'anca genocchio mi duele genocchio c'è mal di schiena non riesco a avanzare sai che cos'è il genocchio l'orgoglio l'anca paura di avanzare schiena sostegno della famiglia nonna e potrei parlarti tanto di queste cose della psicosomma sarà per un altro podcast per un altro webinar ma torniamo sui mostri allora ciclo dei problemi vai risolvi quel problema e poi ci sarà un altro problema ma perché tu hai risolto quel problema ti dà una base su cui costruire il piano di attacco per i prossimi problemi e giorno dopo giorno comincerai a risolvere problema dopo problema dopo problema fino a diventare un nuovo te i problemi infatti io dico spesso di partire con il corpo come mangi come dormi come ti alleni perché quando mi sento fisicamente forte mentalmente mi sento più forte e mi aiuta di sentire il massimo di me stessa e ci arriva le mostre di ansia e dubbi il subconscio è creato nel nostro passato certi credi sono cimentati fino in fondo il nostro subconscio dove risiedono questi mostri veri in pratica se è mai stato scalfito spaventato o scioccato lo ricorda questo sciocco e prova di difenderti con ansia e con dubbi di non riapplicare quello stesso problema se hai mai fatto uno scivolone su una bicicletta diventa più difficile risalire in sella infatti si dicono se cadi dal cavallo risali immediatamente sul cavallo per bloccare immediatamente quelle ansie e quelle dubbi stessa cosa con i problemi stessi problemi quando ti sorgono nella tua testa queste mostri e e ti dice non sei all'attezza osserva lì ok perché è un modo migliore per gestire i mostri e osservare i mostri perché a volte tu sei succube di incertezze di dubbi di paura e pensi che sono farina della tua del tuo sacco no pensi veramente che non è possibile o non sei all'altezza o sei un impostore invece quando cominci a ascoltare quella voce che non è veramente te ma mi siede dalle paure sul concio e cominci a osservarlo rimani con lui un attimo per esempio il mostro che cos'è dubbio paura incertezza timidezza e dici ciao timidezza ok ti sto osservando perché sei qui realmente perché sono timido chi ha detto che io non merito di essere visto o ascoltato o calcolato chi l'ha detto ok quando cominciamo a guardare il mostro e cominciamo ok nasce da qui perfetto nasce da qui giusto sbagliato 98% delle volte sarà sbagliato sarà stato un mostro una persona del tuo passato anche un passant che ha detto con leggerezza non fare lo sciocco non fare lo stupido me l'ha detto magari una tardi cresci da tuo che hai avuto paura e ti è rimasta impresso sul tuo subconscio che tu sei stupido e così ergo devo rimanere timido perché se esprimo un pensiero potrei essere considerato stupido non voglio sembrare stupido così funzionano i mostri così funzionano il subconscio ma l'unico modo per superare questo questo grande diciamo timore di vivere e di osservare i mostri rendere conto che esistono a cominciare ad ascoltare le voci io chiamo iperrealismo io sono io vivo in un reality perché io sono molto realista molto molto sognatrice anche ma sono sognatrice realistica cioè io provo di sempre guardare bianco e nero sì e no dove c'è la verità e da lì prendo una posizione per me per sentirmi 100% Gil se una persona mi propone anche i haters per esempio quando vedo online una persona che dice lo guardo e quasi mi scivolo immediatamente addosso perché non mi conoscono non hanno mai parlato con me non hanno mai condiviso un caffè con me stanno giudicando probabilmente attraverso i loro mostri io potrei essere grattargli contro perché sono una sportiva potrei grattargli contro perché sono donna potrei grattargli contro perché sono americana non so ci sono 3.000 motivi che posso grattargli contro ma non posso cambiare il mio stato d'animo per l'insoddisfazione di mostri altrui ognuno c'è il suo mostro ognuno tiene il suo proprio mostro tiene lo stretti non abbandonarli però osservarli e cominciare a affrontarli cioè io con questi podcast e con questi webinar e con tutto quello che faccio è motivare le persone di volersi bene e rendersi conto che yes I can yes I can cambiare sì posso cambiare posso cambiare ora in questo momento da domani posso essere una persona nuova avrai dei mostri che dicono ma non è possibile cambiare così in fretta ma è una bugia io volendo con uno scorcare le dita posso cambiare in questo momento in qualsiasi momento della mia vita a volte succede si dicono si chiamano il momento aha quando fai aha e dico oh cielo cambio vita è possibile sono qui per questo se vi piacciono i podcast li troverai online su nowjrcooper.com e per il resto passate una giornata di osservazione osserva il tuo critico interiore che cosa ti sta dicendo che cosa ti recca incertezza dubbio paura timidezza da dove stanno provenendo queste sensazioni e a lungo andare andremo a affrontare i modi per poi tornare a noi per poi tornare padrone di noi stessi per poi avere i mezzi per affrontare questi mostri i mezzi per crescere internamente perché è veramente possibile yes I can yes I can e smettete di criticarvi vi prego lasciatevi ogni tanto vincere una partita lanciati un osso ogni tanto perché non è vero che non sei mai abbastanza mai abbastanza bravo o bello o questo ogni tanto dire ah grazie ce l'ho fatta anche in piccolo modo ma l'ho fatta il primo passo della guarigione vi voglio bene ricordate settimanalmente di questi podcast che trovate su neosielcooper.com e nel loro interezza e per il resto ricordate che sei speciale se stai qui hai una missione una missione da compiere e trovato quella missione e portata l'ennesima potenza e riregalandolo alla vita tu troverai non solo la felicità ma anche un gran senso di chi sei realmente buona giornata dalla Jill